Spiagge libere e finalmente sicure a Bari, visto il ritorno dei Vagnini sulle spiagge di Pane, Pomodoro e Torrequetta. Si tratta di otto nuotatori del CUS, del Centro Universitario Sportivo, che presidieranno la costa almeno per i prossimi 15 giorni, dalle 10 alle 18. Una soluzione tampone che permetterà al Comune di organizzarsi temporaneamente per il servizio di salvamento, soprattutto dopo la morte del cittadino georgiano nelle acque antistanti Pane e Pomodoro. L'amministrazione comunale ha chiesto la collaborazione della Federazione Italiana Nuoto e delle più importanti società sportive di nuoto baresi perché indicassero i propri migliori assistenti bagnanti e maestri di salvamento. Oltre il CUS hanno dato alla propria disponibilità la Water Polo Bari, la AS di Modugno e i Delfini. Però sulla spiaggia di Pane e Pomodoro la gente non reclama soltanto la sicurezza in mare. La spiaggia la vogliamo pulita perché ci portiamo i bambini e poi vorremmo anche la sicurezza perché ci fanno gli scippi e roba varia. E si può mettere anche una vigilante che quando buttano le carte fa la multa.